Questo video riguarda i migliori tre tablet 10 pollici. Il vincitore della qualità è il New Metab Tablet. Il tablet 128 GB è dotato del sistema Android 11, che ottimizza il controllo delle autorizzazioni delle app, offrendoti un controllo ancora maggiore sulla tua privacy e sui tuoi dati. Tablet 10 pollici ha un vassoio per schede SIM Premium. Puoi facilmente inserire la scheda SIM nel tablet per utilizzare la rete 4G volte sempre e ovunque. Il tablet Android è dotato di 6 GB di RAM, processore octa-core da 2,0 GHZ e 128 GB di ROM, supporta la scheda TF per ottenere l'espansione della capacità, puoi essere libero di archiviare app, foto o video. Il tablet New Metab P40 utilizza uno schermo in vetro curvo 2.5D. E lo schermo è molto luminoso. L'intero tablet adotta un design del corpo in metallo. L'intero corpo è molto rotondo, rendendo l'intera macchina molto confortevole. Tablet 4G LTE è supportata da navigazione GPS, GLONASS, Wi-Fi, 4G volte, Bluetooth 5.0 e OTG. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Facetec Tablet. Tablet con tastiera utilizza il sistema operativo Android 11 più avanzato e un processore da 1.6GHz octa-core, per assicurarti di scaricare le applicazioni di cui hai bisogno più velocemente e fornire velocità di riproduzione video ultra fluida e esperienza di gioco. Tablet 10 pollici supporta la connessione di bande di frequenza Wi-Fi 5G e 2.4G 5Wi-Fi, è adatto a tutte le reti domestiche e puoi connetterti a tutte le reti a piacimento. Tablet con tastiera e penna ha una batteria integrata da 8000 mAh. Dopo che il tablet è completamente carico, la durata della batteria può raggiungere le 6 a 8 ore. Tablet Android 11 sono dotati di tastiera, mouse, custodia in pelle, auricolare, pellicola protettiva, adattatore OTG, testina di ricarica, dati di Type-C cavo. Facetel dispone di un team di supporto professionale con 10 anni di esperienza e rispondiamo a tutte le domande online 24 ore al giorno. Il vincitore del premio è il Mabry Tablet 10 pollici. Tablet PC con sistema operativo Android 10.0 fino a 1,6 GHz con processore CPU octa-core SC9863A stabile a 64 bit insieme a 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, il che ti assicura di scaricare rapidamente la maggior parte delle app ciò che desideri necessità, come YouTube, Netflix, WhatsApp. Tablet è dotato di un display IPSF HD 1280-800 che presenta dettagli nitidi e colori vivaci in un widescreen da 10 pollici per un'esperienza visiva più realistica. Tablet Mabry è dotato di una batteria da 8000 mAh che ti consente di guardare, leggere e giocare a casa o in viaggio per un massimo di 8 ore di utilizzo. Tablet Mabry M7 da 10 pollici supporta multiutente, passare da un utente all'altro è un gioco da ragazzi. Inoltre viene fornito con funzionalità di accessibilità che supportano le esigenze di visione, udito e azione. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.